Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione regionale del nostro telegiornale in apertura alla cronaca e la gelosia il movente dell'omicidio avvenuto nel primo pomeriggio di in un'abitazione Acer di via Primo D in zona Sant'Orso. La vittima è Augusta Alvelo, una dominicana di 50 anni che abitava nell'appartamento con uno dei due figli, un giovane ventenne che al momento del delitto non era in casa. Ad armare la mano di Loris Castelli, camionista residente a Castelguelfo con il quale la donna aveva una relazione da quattro anni sarebbe stata la gelosia o quantomeno la sofferenza per l'intenzione della dominicana di porre fine alla relazione. Non si esclude anche per via di alcuni atteggiamenti violenti manifestati dall'uomo nei suoi confronti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri Loris che aveva le chiavi dell'appartamento sarebbe entrato forse mentre la donna dormiva, le avrebbe sferrato alcune coltellate al petto e poi avrebbe rivolto l'arma contro se stesso trafiggendosi le mitorace sinistro all'altezza del cuore. Poi sarebbe stato lui stesso a chiamare il 118 che lo ha trasportato in condizioni piuttosto gravi all'ospedale maggiore dove lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. Castelli superata la fase critica si sta riprendendo e sta per essere trasferito in un altro reparto dell'ospedale. Secondo le testimonianze raccolte la tormentata relazione tra i due è raggiunta ormai al capolinea e Augusta al velo meditava di lasciarlo definitivamente. Da qui la decisione del folle gesto da parte del compagno. E purtroppo nel giro di poche ore sono stati due gli omicidi dettati dalla gelosia in Emilia Romagna. Questa volta la vittima è una ragazza magrebina di 35 anni, madre di due figli. Sentiamo allora come è andata dal nostro corrispondente di Reggio Emilia, Antonio Lecci. Una lite, forse una delle tante, scoppiata tra la coppia di coniugi ormai in fase di separazione. Una lite culminata con l'omicidio di una donna di origini marocchine di 35 anni, Rachida Rida, nell'appartamento di via Manzoni a Sorbolo di Brescello dove viveva da poco più di un anno con le due figlie piccole di 4 e 11 anni. Lui, Mohamed Elayani, 39 anni, pure lui marocchino, l'ha colpita più volte con un martello. Alcuni colpi alla testa sarebbero stati fatali. In casa, al secondo piano di un elegante palazzina, a due passi dal Torrentenza, poco dopo mezzogiorno, c'era anche la figlia minore. E' proprio con la bambina che l'omicidio si è infilato in macchina dirigendosi verso Poviglio. Ha suonato la porta della caserma dei Carabinieri e si è costituito. Ho ucciso mia moglie, ha detto. Sul posto a Sorbolo si sono recati subito i soccorsi con l'ambulanza della Croce Azzurra raggiunta dall'automedica dell'ospedale di Guastalla. Sono arrivati pure i vigili del fuoco per l'eventuale apertura della porta di casa. Per Rachida Rida non c'era più nulla da fare. Era già cadaveri in una pozza di sangue. Lungo le scale, al piano terra, ancora i segni delle impronte delle scarpe del marito, sporche del sangue della vittima. Sono arrivati in fretta pure i Carabinieri, coordinati sul posto dal Capitano Stefano Petroni, insieme al Maresciallo Stefano Irini della caserma brescellese. Poco dopo è giunto sul posto anche il sostituto procuratore, Luciano Padula, chiamato a coordinare le indagini. Il procuratore è rimasto quasi tre ore all'interno dell'appartamento di Via Manzoni, dove è stato raggiunto poi da un medico della medicina legale di Modena, che ha eseguito i primi accertamenti sul corpo della vittima. Intanto, a ritorno dalla scuola, la figlia maggiore della coppia è stata presa in consegna da una vicina di casa, in attesa dell'arrivo degli assistenti sociali, che dovranno occuparsi ora pure della figlia minore, visto che la madre è morta e il padre è ovviamente in stato di arresto. Solo nel tardo pomeriggio è stato dato in nulla posto alla rimozione del canavere della donna, che è stata trasferita dalle non anzi funebri cantoni dall'appartamento di Via Manzoni a Sorbolo alla medicina legale di Modena, dove quasi certamente sarà eseguita l'autopsia. Due tentativi di fuga in meno di 24 ore al centro di identificazione ed espulsione di Bologna. Nel primo, un gruppo di immigrati ha scardinato una porta ed ha tentato con questa di forzare le sbarre. Dopo dieci minuti di tentativi, i militari e forze dell'ordine sono riusciti a fermarli. Ieri notte invece il secondo episodio, mentre un gruppo composto sia da uomini che da donne distraeva gli agenti colpendoli con un fitto lancio di oggetti, un altro tentava con una corda composta da lenzuola di arrampicarsi fuori dalla struttura. Nonostante il trambusto che naturalmente si è creato, anche in questo caso nessuno è riuscito a scappare. Nel settore femminile sono stati anche accesi dei piccoli incendi subito spenti, ma nessuno è rimasto ferito. Ed ora parliamo di politica perché oggi si è svolto il congresso provinciale dell'Udc. Tante le intenzioni, tante le proposte, ma c'è anche una novità importante. C'è la racconta il coordinatore Maria Cristina Marri. Vediamo. Il primo congresso provinciale è il primo congresso cittadino dell'Udc verso il partito della nazione, nel senso che praticamente da questo momento in poi è nato un nuovo soggetto politico che non so dire come si chiamerà e nemmeno che simbolo avrà, perché questo lo deciderà il congresso nazionale. Però come ho detto nella relazione che ho svolto come coordinatore uscente, vuole essere un soggetto politico che assume un protagonismo politico importante nel Paese e nella nostra città. Noi crediamo, lo diciamo da tempo, che si devono superare le conflittualità. Ora abbiamo il compito di cercare di modificare il sistema per far sì che si possano finalmente raggiungere le condizioni per ritornare alla buona politica, quella buona politica che purtroppo è stata dimenticata. Quali sono gli ideali, diciamo così, fondamentali di quello che sarà il partito della nazione, se davvero si chiamerà così? Guardi, il partito della nazione ha due pilastri fondamentali che sono l'ispirazione cristiana e il liberalismo. E cambiamo argomento, si chiude oggi nella cattedrale di San Pietro a Bologna la fase diocesana del processo di beatificazione di tre sacerdoti rimasti uccisi nel 1944 a Montesole dai nazisti. Sarà il cardinale Carlo Caffarra a chiudere ufficialmente il procedimento, ma sulla vita dei tre sacerdoti vediamo il servizio di Massimo Ricci. La chiesa di Bologna avrà presto tre nuovi beati. Si è conclusa infatti la prima fase, quella diocesana del processo di beatificazione di tre sacerdoti assassinati dai nazisti a Montesole nel 1944. La causa fu avviata nel 98 dal cardinale Giacomo Biffi. La pratica passa ora in Vaticano dove sarà affidata al di Castero per la causa dei Santi. Si tratta di Don Ubaldo Marchioni, Don Ferdinando Casagrande e Don Giovanni Fornasini. Don Ubaldo fu arciprete di San Martino di Caprara, un territorio in cui si concentrarono sia le pressioni dei partigiani sia i rastrellamenti dei tedeschi. Fu ucciso sull'altare della sua chiesa mentre cercava di dare protezione ai suoi parrocchiani. Aveva 26 anni. Don Giovanni Fornasini, arciprete di Sperticano, si recò ovunque in sella all'affezionata bicicletta per aiutare i confratelli sacerdoti anziani. Anche quando dal maggio 44 la situazione peggiorò a causa dei bombardamenti, delle rappresaglie e degli imprigionamenti, Don Giovanni rimase nella sua parrocchia aggiungendo alle sue iniziative di servizio la sepoltura dei morti abbandonati. Fu assassinato il 13 ottobre in circostanze misteriose. Aveva 29 anni. Don Ferdinando, parroco di San Nicolò della Gugliara, aiutò particolarmente i parroci della zona, prodigandosi anche ad elevare il grado culturale dei giovani con una scuola serale. Nonostante i terribili avvenimenti della guerra, restò accanto alla sua comunità. Il suo corpo venne trovato nel maggio del 45 presso la Pozza Rossa. Aveva 30 anni. Ai tre sacerdoti il nostro settimanale televisivo 12 porte ha dedicato un lungo speciale da cui abbiamo estrapolato queste immagini. Per ricordare la vita, oltre che la morte, la storia di tre preti, la storia di tre uomini. Ed ora andiamo in riviera perché in vista di Ravenna, capitale della cultura 2019, gli studiosi si siedono intorno ad un tavolo per studiare il rapporto tra la città ed il mare. Sentiamo allora che cosa è emerso dalla voce degli esperti. Come vede il Mediterraneo in questo momento di crisi? Il Mediterraneo in questo momento è pieno di onde. Abbiamo visto la sponda al sud del Mediterraneo, abbiamo visto un effetto domino in cui si sono liberati dalle oligarchie tanti regimi. Non sappiamo ancora cosa diventeranno, come si risolverà questa soluzione, come si è un po' più unito. Questa parte nostra, la sponda al nord del Mediterraneo, vediamo le crisi economiche eccetera eccetera. Il Mediterraneo non è una situazione in cui possa sviluppare un'attività che potrebbe risolvere facilmente queste questioni. Sono legato all'Italia, alla sua situazione. Era dei momenti che l'Italia poteva evitare. Speriamo che in questa situazione da già difficile eviti le situazioni gravi e difficili e li trovi se stessa. Lei è uscito già da un paese che ha avuto una fortissima crisi, una guerra, quindi ha un'esperienza anche in questo senso. Io ho vissuto 18 anni fra asilo ed esilio. Sono andato dai Balcani nel momento della guerra a Jugoslava. Sono stato 4 anni a Parigi, 14 hanno insegnato la Sapienza, l'Università Sapienza di Roma e dunque con questa esperienza guardo forse un po' diversamente che alcuni amici. Questa crisi può essere lunga, questa crisi può avere dei momenti particolarmente critici e difficili. bisogna fare del tutto di fare una sintesi comune per uscirne e per uscirne a lunga durata. Ed ora torniamo a Bologna perché capita spesso che i cittadini si lamentino dell'assenza della Polizia Municipale soprattutto in alcune zone, zona San Donato e Navile. Il corpo però come ribadisce il comandante fa quello che può e le carenze ci sono soprattutto di nuove leve. Sentiamo allora l'appello del comandante Carlo Di Palma. Si fa prima di tutto con gli uomini, con ovviamente le donne, cioè con tutti i colleghi sulla strada da impiegare. E' meglio se non con un'età media come quella che abbiamo nella cinquantina d'anni. Quindi ce la mettiamo tutta, cerchiamo di non piangere inutilmente, di dare il nostro contributo, però rimane la questione fondamentale che bisogna mettere mano a un riassetto dell'organico perché senza quello corriamo il rischio tra poco di non avere futuro. Quindi dico semplicemente che a Navile, come nelle altre parti della città, ce la mettiamo tutta. Ma per poter dare un po' più di risorse è necessario mettere mano a una campagna, a un programma, a un progetto di rinforzamento degli organici della Polizia Municipale. Insomma c'è bisogno di vigili urbani più giovani? Anche, anche. Non è che l'età di per sé sia lo strumento determinante, però non può essere che se l'età media del corpo si sta spostando verso i cinquant'anni, noi non ci si preoccupi, visto che ricordo che sono undici anni e non era mai successo prima che non abbiamo un concorso e quindi nuove leve, dobbiamo, abbiamo questa necessità di recuperare il gap di età, perché sennò correremo il rischio, se tardiamo ancora, di avere colleghi troppo anziani per insegnare a colleghi troppo giovani. Questo è il vero problema. E restiamo a Bologna per presentare un'iniziativa promossa dal Lions Club. Si tratta di una serie di dieci incontri per riflettere su alcuni temi fondamentali della nostra società. Sentiamo. di questa rassegna è nata da una riflessione che è stata fatta, dove noi tutto sommato stiamo vivendo un momento in cui di grandi cambiamenti, cambiamenti socioculturali, con impatti abbastanza importanti e li vediamo tutti i giorni. Si punta molto sul profitto, si punta molto sull'individuo e noi invece con questa provocazione vorremmo un po' ritornare all'origine. Quindi riprendiamo una frase che in una città che è Basket City è abbastanza comune, quindi ripartiamo dai fondamentali, vuol dire ripartiamo dall'ABC per cercare di capire insieme che cosa si può fare per il bene comune. Essendo un'associazione a livello mondiale è la nostra e avendo uno scopo che è lo scopo di fundraising, quindi raccolta di fondi, noi abbiamo individuato e selezionato cinque progetti che andremo a promuovere, andremo ad aiutare concretamente, quindi raccogliendo i fondi che saranno raccolti attraverso la partecipazione di tutti. Era Massimo D'Assogno di apertamente del Lions Club. Ed ora cambiamo argomento, parliamo adesso di teatro, quello classico perché al comunale di Modena oggi è andato in onda da Romeo e Juliet, un'opera in cinque atti tratta naturalmente dalla commedia shakespeariana. Vediamo allora il servizio e qualche anticipazione da Alessia Salvatori. Romeo e Juliet è un classico sempre molto apprezzato dal pubblico, generalmente da tutte le fasce d'età, al Teatro Comunale di Modena il 18 e il 20 novembre. Eterna storia d'amore. Romeo e Juliet ha funzionato in tutti i generi artisti, artistici, dalla opera lirica alla danza, al balletto classico, al cinema. E la famosa storia, la famosa tragedia di Shakespeare tratta da una storia tradizionale italiana che rivedremo nella versione musicale di Charles Gounod, quindi siamo a metà ottocento circa, quindi grande opera romantica, in una veste però contemporanea. D'altra parte l'eterna storia di Romeo e Juliet si può ambientare in qualsiasi epoca naturalmente. Questa sarà ambientata a giorni nostri in un nuovo allestimento che abbiamo coprodotto con Bolzano e Piacenza e il Teatro di Filadelfia. E con queste belle immagini si chiude l'edizione regionale del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.